In realtà secondo me sono molte di più le scuse che ci riusciamo a dare ognuno di noi, siamo bravissime di inventarci scuse, sono convintissime di questo fatto. Tantissime scuse per trovare un motivo per non riuscire a farlo, tantissime scuse per dire no vabbè ma adesso non posso, adesso non ce la faccio. In realtà il tempo non è avere tempo, è riuscire a trovarlo proprio effettivamente il tempo. La mia fortuna è sempre stata avere questa combo tra sport e studio, sono state la mia fortuna, tra compagni di classe e squadra, tra riuscire a vedere tutto come un... ogni cosa era una piccola gara. Tasta cosa per dirvi ragazzi sognate, sognate tantissimo, provate a realizzare tutti i vostri sogni, fateli diventare obiettivo, datevi da fare e poche scuse lavorate in pratica. Buona giornata.